CLIFF EMPIRE Sono inscemiato talmente tanto che ho detto non voglio spoglierarmi troppo, andare troppo avanti, io parlo preso dalla foga in pratica. Quindi, in che cosa consiste il gioco? Inizio a spiegarvelo, perché lo scopo di questo video non è un gameplay ma è una spiegazione, in pratica per farvi capire che cos'è, se può piacervi, se può non piacervi. Allora, prima di tutto iniziamo col dire che la trama è sulla falsa riga di Frostpunk, la terra è compromessa, i nostri antenati hanno deciso di edificare questi clivi, queste scogliere, queste colonne, e ogni partita ne abbiamo tre. Ogni colonna ha delle specifiche diverse in termini di fertilità, livello di sole, livello di vento, il che ci influenza la coltivazione piuttosto che la produzione di energia elettrica dalle paleoliche. Quello che dobbiamo fare è iniziare e creare la nostra città. La nostra città la inizieremo creando un magazzino, come prima cosa, e dopodiché metteremo la nostra prima piattaforma d'atterraggio delle capsule. Adesso io avvio la partita in modo da farvi vedere. Quello che noi poi andremo a fare, qui c'è un tutorial veramente immenso, lunghissimo, che vi spiega tutto, non è invasivo, non c'è neanche troppo da leggere, cliccatevi, fa vedere che cosa dovete fare, dove dovete cliccare. In pratica è tutto guidato, però è veramente una cosa spettacolare, perché quello che faremo all'inizio è, c'è una stazione spaziale sopra, in orbita, intorno al mondo. Tra l'altro nel late game, nell'end game, diciamo in parti molto avanzate, potremmo addirittura andarci e gestirla, questa stazione spaziale. Beh, ogni tot tempo arrivano delle capsule che portano 15 cittadini, i cittadini quindi possono arrivare o andarsene, se ne andranno o verranno, sempre in gruppi di 15. La cosa che possiamo fare noi è, all'inizio, una volta che abbiamo il nostro primo, adesso rimetto in pausa, una volta che abbiamo il nostro magazzino, una volta che abbiamo la stazione di attarraggio, iniziamo a creare le case, in pratica i centri residenziali. Io, se clicco in una zona non popolata, posso andare a costruire, vedete le case, la residenza, il cottage, il maniero, possiamo addirittura farci la villa personale, la casa ecosostenibile, la piattaformata l'abbiamo già vista, ci sono anche quelle a terrazzo, all'esterno, possiamo fare la stazione di bus, la metropolitana, per andare anche sulle altre isole. Ma noi, per ogni edificio poi che costruiremo, in questo caso io ho fatto, ad esempio qui c'è la miniera, la miniera dà libero accesso a dei posti di lavoro. Quindi i cittadini diranno, ok, c'è lavoro, andiamo. Infatti io qui ho 71 persone su 78 alloggi disponibili, alcuni se ne sono già andati, credo, e ci sono 8 posti di lavoro. Ovviamente quando noi chiudiamo una fabbrica, come ad esempio questa fabbrica 3D, oppure questo aeroporto, i posti di lavoro si liberano, cioè quindi diventa zero, quindi la gente che è lì va e si prende un altro lavoro. Le città invece che possiamo fare oltre, praticamente a un certo punto di gioco, dopo un'oretta, ci viene data la possibilità di costruire il ponte, cioè il tutorial ci dice, fai il ponte, piazza nuovamente una complessa residenziale, piazza un magazzino, una piattaforma, e inizia un'altra città. Qua in alto, infatti, vedete che c'è anche l'acqua del paradiso, che è la terza, qua. Io ho già pianificato di costruirgli un porto, perché è l'unico posto da cui si può ottenere il pesce, però adesso aspetto perché vorrei portare avanti questa zona e questa. Ogni zona, quindi questa, questa e questa, hanno un conto economico a parte e un inventario a parte. In pratica andiamo a gestire tre città contemporaneamente. E tutto quello che vedete qua sotto, adesso ve lo spiego, perché sono i bisogni, questi sono i bisogni primari, quindi l'acqua, il cibo, l'ecologia, perché ovviamente la terra è devastata, bisogna fare attenzione a non inquinarla, non dargli scorie radioattive, qua ho messo la centrale nucleare, quindi qua sarà un'isola molto inquinata, immagazzinata, dove produrremo magari cibo, ma poi vi spiego anche quello. Abbiamo addirittura, va bene, l'energia elettrica, che ci dice come viene fornita in questo momento, 23 dal sole, 33 dal, no, 33 dal sole, 23 dall'eolico e 26 dalle batterie, perché questo edificio, poi io non vi spiegherò tutto tutto, però in pratica, se noi abbiamo un esubero di energia, l'energia viene immagazzinata in batteria, ogni volta che una batteria è piena, viene presa dai droni, portata nel magazzino, questi droni sono questi cosi qui, viene portata qui e usata in caso l'energia non fosse sufficiente, quindi in questo caso abbiamo, su 83 richieste, 26 fornito dalle batterie. Le batterie, insomma, è un bel problema, perché dobbiamo immagazzinarle, e quindi qua dovremmo in qualche modo aumentare la produzione, perché non posso fidarmi di giorno, quindi con i pannelli solari funzionanti, alle batterie. Qua infatti il sole è 41%, il 29% è il vento, quindi non è il massimo, sarebbe stato meglio magari mettere la nucleare di là, e il vento qui, che è un 54% invece di un 29%. Tra l'altro qua, i depositi di uranio è zero, quindi io poi ho messo anche questa, una megatrivella che scava uranio, acqua e materia, la materia sono i minerali, mentre invece la miniera scava solo materia. L'idea era quella di produrre, ad esempio, uranio e poi venderlo, perché dobbiamo vendere, in modo da tenere i conti economici, vedete che qua, Ossidiana, la colonia qui che si chiama Ossidiana, ha mille crediti, criptovaluta, ne ha 5.700 questo, quindi dobbiamo creare un'economia stabile, dove ci sia uno scambio utile. Il problema è che qua non producono uranio, io avevo l'idea di produrlo, venderlo, e magari loro producevano più cibo, più cose un pochino più elaborate, dato che qua, vabbè che ho potenziato anche qui, perché ho fatto un frutteto, possiamo fare le serre, le serre che costruiscono anche se il terreno non è fertile, e quindi questa è un'altra cosa. Poi adesso vedremo tutto. Qua c'è un portale per poter decidere se vendere, se abbiamo più di un tot, comprare se abbiamo meno di un tot, comprare o vendere una tantum, noi lo impostiamo, e poi una volta che arriva il cargo, scarichiamo e spendiamo i soldi. Stessa cosa, se io da qui clicco sul ponte, mi mette in automatico l'acquisto e la vendita di questa città nei confronti dell'altra, di questa qua, se non ricordo male. Infatti vado di qua, vedete che qua cambia, io ho un inventario di un certo tipo, qua ho 4,74, io vado qui, apro un inventario, ho 3,11, quindi sono inventari completamente diversi, incasinano non poco le cose, almeno all'inizio poi inizieremo a capire che cosa fare. Poi, altra cosa, vabbè, io adesso ho messo in pausa, vi faccio vedere gli edifici, quindi qua abbiamo la possibilità di costruire residenziali, qua sono tutte cose di abbellimento, che aumentano comunque l'appariscenza, perché poi ci sarà anche turismo, c'è la possibilità di fare il turismo, tutta la parte della coltivazione del cibo, l'energia elettrica, quindi minero di uranio, subacquee addirittura, nucleare, abbiamo il parafulmine, insomma, perché poi ci sono i disastri naturali e soprattutto gli attacchi. Non ne ho ancora subiti, ma il gioco può partire in tre modi, la creativa con tutto sbloccato, la creativa sandbox, la carriera, diciamo che è quella che stiamo facendo adesso, quindi una partita normalissima, e la modalità tower defense, dove ogni top c'è l'ondata, ondata che invece qua arriva a caso, magari in concomitanza di qualche evento, poi ci possono essere incidenti, disastri naturali, incendi, insomma, roba del genere. Qua abbiamo l'industria, alcuni depositi, il deposito freddo per stipare il cibo, miniera, centrale di riciclaggio, mega trivella che ho fatto, l'aeroporto che ci produce più droni, stazione fertilizzante, vedete qua sono tutte cose che dobbiamo ricercare, il portale commerciale, la navetta commerciale, il ponte, tutta la sicurezza, quindi la manutenzione, le torrette difensive, i lanciamissili, gli scudi, questo è tutto affari, palazzo d'uffici, palazzo d'uffici grandi, le banche, banca centrale, ci sbloccano tutti i menu interessanti, il mercato addirittura, il mercato lo potremmo anche fare, ci costa 4 di materia, vedete, lo andiamo a piazzare qua vicino al municipio, il municipio che tra l'altro ci ha sbloccato un menu, che è il menu qua, che ci consente di vedere, vendere i droni, insomma, col Parlamento avremo anche modo di fare altre cose, così come l'università ci dà la possibilità, ho sbagliato, cliccare, l'università ci dà la possibilità di, adesso devo cliccare giusto, di aprire il pannello delle ricerche, quindi andare a migliorare, guardate quante, ce ne sono più qua sotto col centro di ricerca, se ne sbloccano altre ancora, i miglioramenti energetici, stessa cosa, abbiamo l'industria alimentare, congelamento, ci dà più 5 al pesce, e l'industria pesante, quindi la riserva energia, tra i livelli di titanio, un sacco di cose da fare, e abbiamo anche dei menu ancora bloccati, se non, no, infatti, infatti è questo, che era, investi 2.500 per, io sto sviluppando l'esame del sangue per dare più sanità, vabbè, questi sono i bisogni primari che vi dicevo, addirittura c'è le vitamine, dobbiamo dare un'alimentazione equilibrata ai nostri cittadini, per renderli contenti, se sono contenti, vedete la faccina, la gente arriva, anche in base ai posti di lavoro che ci sono, qua invece abbiamo i bisogni secondari, quindi, mi sa che già le vitamine è una cosa secondaria, poi ci sono i mobili, i mobili li produce la stampante 3D, quindi qua possiamo investire su, prendere delle materie, produrre motori, piuttosto che elettrodomestici, i mobili e altro ancora, che sarebbero questi aggeggi qui elettronici, quindi la tecnologia, i gadget li chiamano, gli elettrodomestici, qua vedete i mobili, qua abbiamo l'estetica, quanto apprezzano l'estetica, quanto c'è la sanità, il trasporto sociale, i centri di divertimento che non abbiamo, l'istruzione, l'accesso all'istruzione, la giustizia, perché ogni tanto qua in alto nelle risorse esce, è rubato e quindi abbiamo dei furti, ci sparisce della roba dalle risorse della città e se non abbiamo un sistema di sicurezza, le subiamo, dovremmo mettere qualcosa per farlo, ma adesso non saprei quale, però dovrò ancora studiarci. Quindi a questo punto noi continuiamo lo sviluppo, prendendo tab, vabbè, si può anche addirittura camminare, ovviamente passando attraverso, in pratica non è una simulazione, è un modo giusto per capire un po' com'è, guardate che bello il drone che porta le merci, e questo è quello che bisogna fare, cioè bisogna proseguire, bisogna andare avanti col tutorial, alla fine arriveremo al punto di andare sulla stazione spaziale, è un gioco assolutamente, dal mio punto di vista, clamoroso, perché non me l'aspettavo, io ringrazio ancora Silma che me l'ha regalato, io ne ho deciso se prenderlo, ma devo dire che cavoli, fatto veramente bene e tradotto in italiano, quindi meglio di così. Allora, in pratica, adesso qua cosa stiamo facendo? Abbiamo un po' di cose... vabbè, abbiamo fatto direttore alla piazza, vedete che qua la piazza produce soldi, ci dà soldi. Qua non stiamo estraendo praticamente niente, credo, perché manco il... no, abbiamo prodotto l'uranio, l'uranio io direi che noi qua siamo messi ancora peggio, perché qua in città non abbiamo uranio, zero, e dovremmo comprarlo dall'altra città, quindi clicchiamo qui e lo compriamo, ne compriamo una tanto, uno, e ce lo facciamo andare, perché qua in città siamo totalmente... eh no, siamo ancora abbastanza riforniti, perché abbiamo appena messo l'uranio, però tra poco finirà. Le batterie dovremmo averne un po', credo, perché qua... eh sì, 48, ne abbiamo prodotte tante. Qua stiamo... vediamo un po' se stiamo estraendo qualcosa, sì, stiamo estraendo questo. E abbiamo messo via anche un po' di materiali, qua vedete che sto costruendo la megatrivella anche di qua, mi richiede un sacco di roba. Qua ad esempio la materia la scaviamo, mentre invece dovremmo usare altra materia per il motore, per produrre i motori, e quindi farne 20 e finire di costruire questa cosa. Poi abbiamo anche la possibilità di upgradare il complesso residenziale, 48 su 52, quindi cittadini ce ne sono. Possiamo andare a aumentargli l'estetica, quindi migliorare la bellezza, quanto i cittadini apprezzano questa città, aumentare quella cosa lì, aumentare gli alloggi, ma aumentare anche il consumo, oppure semplicemente spendere 400 e metterci i pannelli solari sul tetto, è quello che io farò. Infatti adesso abbiamo una produzione di 8 dai pannelli solari, e il resto siamo a batteria. Vedete, adesso siamo passati a batteria perché l'uranio è probabilmente finito, quindi verrà consegnato da là quando lo avremo acquistato, dal treno, il treno arriva, il drone lo porterà al magazzino, e dal magazzino poi lo porteranno alla centrale nucleare. La centrale nucleare che tra l'altro dà lavoro a 19 persone, ma dà anche un meno 17 all'ecologia. Allora, io sono andato abbastanza alla ruota libera, e vi ho spiegato un pochino quello che è. Ovviamente è questo, è anche molto di più, perché ovviamente bisogna andare avanti, ci sono anche il supporto alle mods, ci sono dei punti di onore da ottenere, devo ancora capire come fare, perché daranno accesso a nuove cose. Figo, cos'è col giardino ossigenante? Cosa fa? Posto di lavoro 1, consuma 2 kg, dà sanità 3. Ah, ok, ok, molto bello. E soprattutto il pesce, il pesce ci manca, l'unico modo è ordinarlo da fuori. Io gli dico di ordinare del pesce, vedete qui compra se meno di 12, ne abbiamo se 11, quindi nel prossimo ordine lo ordinano, e quando arriva lo consegnano, lo pagano, e in pratica abbiamo sempre pesce, finché non abbiamo modo poi di crearci una catena di commercio tra questo e questo. Oltre a tutto questo, appunto, ricordiamo gli attacchi, quindi dovremo mettere delle difese, insomma, e andare a difenderci dai nemici esterni. Ovviamente se avete qualche domanda, fatemi sapere, scrivetemi nei commenti sotto, io me lo sto giocando, me lo sto divorando, e anche Silma, se lo sta giocando anche lui parecchio, quindi vedremo un attimino se avete domande, risponderemo. Intanto fatemi sapere che cosa ne pensate dal gioco, se vi è sorpreso, se ve l'ho fatto scoprire, lo conoscevate già, o lo avete acquistato. E con questo è tutto, alla prossima ragazzi, ciao ciao!